Ruspe al lavoro in piazza del Buono a Chiavari. Sono quelle della ditta La Gardenia Costruzioni di Caltanisetta che si è aggiudicata all'appalto con un ribasso del 28,7%. Partiti dunque i lavori di riqualificazione dell'area che seguiranno il progetto condiviso dalla Giunta con i residenti. L'intervento non prevede più la presenza di una pista di atletica ma arricchisce la zona dedicata ai più piccoli. Sarà una riqualificazione che permetterà a tutte le fasce di età di vivere questa piazza dai bambini con un incremento del parco giochi con scivoli anche importanti per gli adolescenti con campi multisport ma anche zone per le persone di più di una certa età con un campo da bocce e percorsi vita. Tutto da fare in completa sicurezza. Vi sarà anche un presidio con un chiosco sulla base del modello talassano che permette una certa vigilanza per evitare i problemi che vi sono oggi con siringhe e quant'altro che si trovano in questa piazza. Sì perché l'obiettivo dell'amministrazione è di eliminare finalmente il degrado di Piazza del Buono. Saranno rifatti anche i bagni pubblici la cui struttura, racconta il sindaco, è abbandonata da 17 anni e ci sarà anche una zona di sgambamento per i cani. I lavori costeranno 510 mila euro. Da contratto la ditta dovrà terminare l'intervento entro 180 giorni solari. È un progetto atteso da decenni. Questa piazza è una piazza importante in un quartiere popoloso che merita una riqualificazione adeguata. È un progetto che è stato altresì integrato perché abbiamo stanziato ulteriori 55 mila euro per l'installazione di illuminazione pubblica LED a contorno della piazza. Attualmente vi sono due pali centrali molto alti che illuminano tutta la piazza che verranno rimossi con un maggior efficientamento energetico con luce LED su tutta la piazza.